Ci troviamo nella via Campidoglio a Sciacca che è una delle zone e lo vedete compresa nei lavori di riqualificazione del quartiere marina di Sciacca fino al centro storico. I lavori sono stati completati pochi giorni fa, il 14 ottobre prossimo è prevista l'inaugurazione di queste opere che sono costate circa 2 milioni di euro. Ne parliamo con Guglielmo Canino che è stato il responsabile del cantiere di questi lavori mentre l'operatore vi mostra anche delle immagini qui proprio nella via Campidoglio vedete il muretto realizzato sfruttando anche alcuni pannelli in ceramica e poi nella parte sottostante c'è la riqualificazione della famosa scala a zigzag. Allora, Guglielmo Canino, questa zona è veramente diversa rispetto a qualche anno fa? Sì, senz'altro. Si è fatto una bellissima cosa. Io contestualmente lavorando vedo migliaia e migliaia di persone che effettivamente vedono una trasformazione totale della zona della marina alla riqualificazione che noi abbiamo ottenuto da fare e dico si è fatto un bellissimo lavoro e me lo dicono tutti complementarsi per quanto concerne di quello che abbiamo e si veda all'occhio nudo di tutti i lavori che noi abbiamo. Fra mille difficoltà, devo dire che effettivamente ho avuto una squadra, siamo stati una squadra ben perfetta per la lavorazione e credo che abbiamo risolto il problema anticipatamente. La gente chiaramente adesso si chiede se questa zona rimarrà un'area pedonale o se ci saranno le macchine tra poche settimane. L'amministrazione si è già espressa affermando che vorrebbe lasciarla come area pedonale. Lei è d'accordo, immagino? Sì, credo di sì, perché c'è tanta gente, perché vedendo per come sono stati i fatti i lavori e il completamento si ritiene opportuno, che ho visto anche dei comitati qua a Sciacca che c'è qualcuno che si sta muovendo facendo una petizione per renderla così per come si vede. L'unica cosa che dispiace sulla progettazione, una volta l'isola pedonale non ci dovevano essere questi marciapiedi, che era più accessibile e più bella. Lei ha avuto la possibilità in questi mesi di stare a contatto con la gente che vive in questa zona, ma anche di verificare le condizioni delle aree vicine. A suo parere in questa zona sarebbero necessari ancora altri interventi di riqualificazione e dove? Sì, è la parte giù, dove c'è stato l'anno scorso, il 25 novembre, si è avuto che noi abbiamo avuto una grossa falla di una bomba d'acqua, per cui dalla parte dove si è finito, che abbiamo fatto anche dei gabbioni, la parte superiore sottostante alla piazza, si doveva ricongegliare fino là sotto al passaggio a livello, che tutti i detriti vanno a finire là. E noi abbiamo visto le prime acque, le prime piogge che sono state in questo anno, vediamo che tutti i detriti vanno a finire proprio alla strada ferrata. E ci sarebbe l'altra parte che va della via Caricatore, via Madennussa, che si dovrebbe fare. Noi vediamo questo bello spettacolo, quella gente viene ammirata. Io l'altra sera abbiamo fatto l'impianto di illuminazione, abbiamo visto che c'erano i tecnici, c'era anche il direttore di lavoro, ma se ne è andato entusiasta a vedere queste illuminazioni, vedere tutte queste cose. Bene, grazie a Guglielmo Canino. E allora il 14 ottobre prossimo l'inaugurazione di questi lavori e quindi il collaudo e successivamente la cerimonia di inaugurazione.